Per fortuna, come si auspicava, è un falso allarme, quindi siamo, come dicevo, tutti molto più tranquilli. Era farina e pane, per cui ecco dove la nuvola di polvere che avevano indicato, che avevano indicato i colleghi dei Vigili del Fuoco. Però, come in questi casi, come vi dicevo, è sempre meglio essere un centimetro più prudenti che un centimetro meno prudenti. Non un pacco bomba, insomma, ma una semplice busta con dentro del pane. È rientrato, infatti, dopo alcune ore di tensione, l'allarme alle poste centrali di Arezzo, rimaste transennate per l'intera mattinata a causa di un involucro sospetto abbandonato nel salone centrale. L'allarme era scattato attorno alle nove, poco dopo l'orario di apertura degli sportelli, quando all'interno dell'edificio erano presenti, oltre agli impiegati postali, anche i primi clienti. A notare l'involucro sarebbe stato proprio uno di quest'ultimi. Entrambi i piani della struttura sono stati così fatti evacuare. La zona è stata transennata e isolata. Ai residenti dei palazzi vicini è stato invece chiesto di non uscire. Io, te lo ho detto, da qui ho visto la gente che arrivava, poi ho sentito parlare, che parlavano di questa cosa. Sembra che abbiamo trovato un pacco su, però poi per il resto... I primi ad intervenire sono stati i vigili del fuoco per verificare la natura dell'involucro. Sul posto anche polizia di Stato e polizia locale che hanno chiuso la via sia alle auto che ai pedoni. Il 118 si è messo a disposizione invece con un'ambulanza e la smart infermierizzata. Il protocollo dunque di ogni allarme bomba. Abbiamo fatto quello che dobbiamo fare per dare sicurezza e questo l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto bene. Purtroppo mi dispiace aver dato un po' di fastidio alla circolazione, ma in questi casi è sempre meglio fare un passo in più che un passo in meno. Sono stati infine gli artificieri attorno alle 14 ad aprire con la massima prudenza l'involucro e a fare la scoperta che ha fatto rientrare l'allarme. In corso le indagini adesso su chi abbia introdotto il pacco nell'ufficio postale per poi abbandonarlo. Sicuramente è stato dimenticato, comunque adesso acquisiremo anche i filmati del circolazione chiuso, ma la cosa più importante è che era un falso allarme. È sempre meglio che sia un falso allarme, comunque noi abbiamo il dovere di intervenire, l'abbiamo fatto e va bene così.